Siamo divisibili e essenziali! L'emergenza Covid-19 ha trasformato noi lavoratori del commercio alimentare in lavoratori essenziali. Per questo siamo quotidianamente sotto forte stress psicofisico e in condizioni di alto rischio biologico. Dal 9 marzo ad oggi la vita e il lavoro all'interno dei negozi è cambiata. Inizialmente le aziende, sottovalutando il rischio, non si erano adeguate all'emergenza. Addirittura alcuni di noi sono stati richiamati dai capi perché esigevano distanze di sicurezza e uso di mascherine e guanti. Aiutateci a difendere i diritti e la salute di tutti! Uniti ce la faremo!